Buongiorno Fenici, come potete notare oggi c'è una cravatta rossa su di me. Che cosa significherà mai questa cravatta rossa su tutto questo nero? Beh, oggi voglio che la cravatta rossa, anzi, sono qui per dirvi che la cravatta rossa è l'amicizia e il nero sono le difficoltà della vita, il buio in cui a volte ci ritroviamo. Ebbene, che cosa vorrei dirvi oggi? Che l'amicizia è qualcosa che colora l'esistenza, l'amicizia vera, quella autentica, quella fatta tra spiriti affini, tra persone che hanno qualcosa di grande da condividere. Ebbene, se ognuno di voi, anche uno solo di voi ha una di questi amici, ha una cravatta rossa nella sua vita, beh, allora sicuramente è una persona fortunata, perché avrà sempre qualcosa a cui riscaldarsi, qualcosa da vero e autentico, qualcosa che ti aiuterà ad affrontare gli ostacoli, i tanti ostacoli che ogni giorno bisogna affrontare per esistere.